Una vera e propria libreria ma in condivisione con gli altri condomini e sarà l'occasione per scoprire passioni in comune con il proprio vicino di casa, scambiare libri e magari leggere anche insieme. Nel quartiere 167 di Lecce stanno per nascere le biblioteche di condominio, piccole postazioni biblioteca e angoli di lettura negli spazi comuni degli edifici. Nascono quindi le cosiddette condoteche, un progetto di inclusione e innovazione sociale nato dall'idea dei residenti delle associazioni del quartiere Leali di Pandora, 167 Evolution, Accademia Mediterranea dell'Attore, Asteroide B, 167 e L'Ora del Tè, e al prezioso contributo degli studenti del liceo scientifico Banzi. Oltre 500 volumi verranno distribuiti in 10 condomini che accoglieranno una selezione di libri dedicati alla Puglia e agli scrittori della nostra terra, pubblicati sempre da casi editrici regionali. I testi sono stati donati dal Polo Bibliomuseale di Lecce, fanno parte di una dotazione acquistata con il Piano Straordinario di Sostegno alla Cultura Custodiamo la Cultura in Puglia, adottato dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Le condoteche quindi in questo periodo sono un'antivirale sociale che cura il benessere collettivo, recuperando le relazioni di prossimità. Una biblioteca diffusa di comunità dove poter leggere, custodire, scambiare i libri e socializzare e agevolare la gestione dello scambio, gli studenti del liceo Banzi hanno sviluppato una web app che sarà in grado di tracciare e misurare quanta strada percorreranno i libri di casa in casa, tra le mani degli abitanti. Le biblioteche di condominio, insomma, rappresentano una nuova forma di presidio di prossimità culturale e sociale, creata a misura dei bisogni di bambini e adulti, un modello che si basa sul coinvolgimento e sulla partecipazione dei cittadini nella gestione del patrimonio culturale.